benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a montare un subwoofer attivo alla nostra casca e come potete vedere è già in fase di smontaggio allora questi sono tutti gli accessori che servono per montare questo subwoofer la rileva in plastica cosa essenzialissima per poter smontare la nostra vettura kit di morsetterie da poter collegare i nostri cavetti sempre acquistato su aliexpress poi alla fine ragazzi sotto nella descrizione del video vi lascerò t-link per acquistare tutto il materiale necessario questo è il kit di cavi per montare questo subwoofer poiché se acquisterete questo modello che ho preso io non sono in dotazione i cavi per montarlo quindi vanno acquistati a parte questo kit costa una decina d'euro sempre su aliexpress ragazzi quindi abbiamo 5 metri di cavo rosso per collegare l'alimentazione il cavo di massa abbiamo la cavetteria per collegare il segnale audio e il cavo per per far partire il subwoofer quindi per far partire l'amplificatore interno perché questo subwoofer è già amplificato e poi abbiamo il connettore per il fusibile che andrà collegato sul positivo e altra cavetteria necessaria allora il subwoofer in questione è della marca isodar ero indeciso se prendere questo o quello della cambo il cavo per collegare il telecomandino le istruzioni questo è il telecomando in dotazione per regolare il subwoofer semplicissimo il cavo attaccato al subwoofer e poi attaccato al telecomandino che potremmo posizionare dove meglio crediamo e qui c'è il livello di minimo e massimo del subwoofer e poi abbiamo il subwoofer vero e proprio faccio vedere perché è già fissato la base che ho praticamente creato artigianalmente e questo è il nostro bel subwoofer della isodar questa è la base che ho creato ho messo due basi in multistrato collegate insieme con le viti per arrivare a un massimo di 5 centimetri di spessore perché la base è bassa gommata ok vanno lasciati gli ultimi due tre centimetri di ampiezza maggiore dove possiamo poi collegare il subwoofer tramite le staffette in dotazione e poi la base sotto che è più piccola perché scivola all'interno della della struttura sotto il sedile perché questo subwoofer andrà montato sotto il sedile del nostro cascai questi ragazzi sono le caratteristiche tecniche di questo subwoofer quindi 150 watt remessi come vi dicevo la sensibilità di 92 db la frequenza che va da 20 s a 200 hertz a differenza del che bond che invece partiva se non erro da 35 hertz l'impedenza è sempre quattro onde in questo progetto ragazzi andremo ad inserire anche questa prolunga che ci consente di spostare la sd del dasaita internamente dove è posizionata internamente al dasaita di poterla spostare direttamente in un posto agevole senza ogni volta dover stare a smontare il tablet questa chicca fa parte sempre di questo progetto suggerita da un nostro amico dove ripeto trovate tutto sulla mia pagina facebook allora detto questo ragazzi andiamo a vedere come montare il tutto sulla nostra cascai andiamo allora prima di iniziare vi volevo far vedere le misure riguardanti la base che dovete poi fare per il subwoofer così almeno vi agevolo il lavoro questa qui è la base ragazzi vedete come è fatta è svasata è più piccola sotto e più grande sopra per poter alloggiare il subwoofer vedete questo sotto alle staffette da inserire sono già in dotazione e quando andiamo a appoggiare le staffette sulla base le andiamo poi a fermare con le quattro vitarelle due avanti e due dietro quindi per forza deve essere la base sopra che alloggia il subwoofer più grande quindi vi faccio vedere la base sopra la base sopra va bene 24 cm per 24 cm quindi va bene un quadrato 24 per 24 in modo che alloggia il nostro subwoofer subwoofer invece la base sotto deve essere sempre 24 cm di lunghezza ma la larghezza deve essere non più di 19 e mezzo fatela da 19 e mezzo in modo che vi calza benissimo all'interno della 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 forma che è sotto il sedile lo spessore totale deve essere 5 cm ok poi di questi 5 cm dovrete fare 3 cm e mezzo la parte questa più grande 3 cm e mezzo la parte questa più grande e il restante centimetro e mezzo va fatta la parte più più larga dove verrà alloggiato il subwoofer quindi 3 e mezzo e uno e mezzo ok 3 cm e mezzo e un centimetro e mezzo la parte questa più grande dove va alloggiato il subwoofer così per intendersi ok dove possiamo fissarlo con le viti spero di essere stato chiaro vi faccio vedere adesso l'alloggio sotto il sedile come è fatto in modo che così capite anche per quale motivo è stata fatta così la base eccoci qua allora vedete la base sotto il sedile come è fatta a queste due scanalature una di qua e una qui in fondo in modo che così va proprio a incastrarsi dentro e non si muove più con il peso del subwoofer poi rimane fisso quindi non c'è bisogno neanche di mettere lo strap il biadesivo non lo so o quant'altro eccolo qua vedete questa è fatta così è svasata e la svasatura andrà proprio a cadere dentro eccolo qui perfettamente all'interno della vasca per intenderci se possiamo chiamarla così e questo ripeto di lunghezza non abbiamo nessun problema possiamo farla anche più più lunga ma la larghezza dobbiamo a tenerci ai 19 cm perché altrimenti questo non scende giù dopo così è perfetta ragazzi con il peso del sub questa non si muove più vedete una volta che abbiamo fissato il subwoofer sulla base praticamente viene così al lavoro finito non dà fastidio al sedile scorre tranquillamente avanti e indietro e il subwoofer questo non si muoverà più poiché è abbastanza pesante allora la parte anteriore dove dovranno dovremmo collegare i capi verrà in questa maniera vedete così è sollevato da terra e possiamo tranquillamente andare a sistemare la cavetteria senza nessun intralcio ok anche la distanza dal sedile è abbastanza quindi non tocca nulla allora ragazzi la base in questione è stata realizzata con legno multistrato quindi una parte più grande di multistrato e una parte più piccola ripeto di misura di spessore unite insieme tramite colla e queste viti che ho messo una volta sistemata la base a misura la possiamo anche pitturare in nero con una bomboletta spray come ho fatto io così diventa tutto nero e non si nota più nulla una volta che è sotto il sedile quindi non ci sarà il contrasto del colore chiaro del legno con la moquette scura così diventa tutto un blocco che se dobbiamo toglierlo basta scollegare i cavi e viene via tutto così allora ragazzi la prima cosa dobbiamo fare per far passare il cavo dell'alimentazione da collegare al nostro subwoofer è intanto smontare il filtro quindi togliamo i rivetti in plastica 1 e 2 poi con una 10 andiamo a rimuovere il buoncino ormai vanno da soli questi eh normalmente una volta che lo smontati conoscono la strada poi tiriamo la rivetta verso di noi e solleviamo e questo viene via tutto insieme ragazzi ho messo una passetta qui perché a forza di staccare solo la parte del tubo si può rompere il gancetto quindi vi suggerisco di lasciarlo sempre intero questo e mettere una fascetta in modo che così non vibra e non si allenti nulla e non si rompa nulla soprattutto ok e questo è il primo pezzo poi togliamo il filtro da dentro in modo che così possiamo lavorare meglio questo lo togliamo poi svidiamo quest'altro buoncino ok togliamo lo spinotto questo sul sulla presa dell'aria e lo spinottino che è attaccato al filtro allentiamo la fascetta questa qui e dobbiamo togliere tutto adesso metto la scatola filtro poi per aiutarci a togliere questa cacchio di scatolona del filtro dobbiamo levare anche i fermi della batteria questi qui questi li togliamo allentiamo le rivi sganciamo sotto i fermi e li togliamo in modo che così la batteria si muova a movimento perché altrimenti non esce questa scatola del cacchio qua ma so quanto è rognosa ragazzi io non voglio togliere la batteria chiaramente perché sarebbe da togliere la batteria per fare questo lavoro però non mi andava di sganciarla ma alla fine penso che dovrò farlo sono 11 e quarto prendiamoci un caffè così ci schieriamo un attimo l'idea va buon caffè sapete che c'è ragazzi che io sono testardo e voglio trovare il positivo all'interno della macchina perché non è possibile fare tutto questo casino che fa passare un filo non è proprio possibile per me è una cagata pazzesca non è concepibile io non lo concepisco io devo trovare per forza il cavo ci deve essere un cavo dentro la macchina che viene dalla batteria non può essere tutto questo sbattimento andiamo a cercare questo c***o di cavo allora vediamo un po' chi la dura la vince come dicono eh non è possibile ragazzi ho trovato il cavo che viene dalla scatola dei posibili e c'è sempre alimentazione ci sono sempre i 12 volts quindi toccando il positivo e il negativo che sta sotto al sedile qui la massa solo 12 e 23 quindi abbiamo i 12 volts ma non vedo per quale motivo mi devo spaccare le chiappe per far passare questo c***o di filo e rischiare di rompere qualcosa quindi andiamo a rimontare tutto il filtro la scatola filtro e quanti c***o ho smontato e recuperiamo il positivo da questo cavo ciao 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 ecco qua noi il cofano abbiamo rimesso tutto a posto ho perso un'altra mezz'ora abbondante per cercare di far passare questo c***o di filo positivo quando ce l'abbiamo qui a portata di mano adesso dobbiamo collegare il nostro filo che andrà al suo bufere al filo positivo questo che porta alimentazione all'interno della macchina ragazzi queste sono le forbici di quando ho studiato io come perito elettrotecnico ormai è un pezzo di famiglia questo ecco qui una volta che abbiamo spellato il cavo lo andiamo a stagnare con un po' di stagno saldatore stagno così poi spelliamo leggermente il cavo questo qui rosso da una parte e lo colleghiamo a questo e poi lo ricopriamo con del naso isolante poi ragazzi andiamo a intaccare leggermente il cavo per poter poi collegare la parte stagnata bisogna solo scoprire leggermente una parte del cavo poi tanto lo copriamo con con apposita para così se dovesse scaldare un pochino è super protetto ok poi una volta stagnato il filo in questa maniera lo andiamo a inserire all'interno così ok dopodiché andiamo a stagnare anche quest'altro in modo che così non si muova più allora una volta stagnato il filo almeno peggio perché chiaramente il saldatore anche questo è datato comunque quello importante è che abbiamo stagnato senza fare saldature fredde basta che lucida la saldatura significa che abbiamo collegato bene il cavo ricordatevi di mettere qualcosa sotto quando andate a fare la saldatura altrimenti vi cade lo stagno da qualche parte e questo è finito adesso andiamo a mettere il materiale adatto quindi la para per poter isolare il tutto anche dal calore eventuale calore ragazzi per chi non ha questo materiale può usare il termorestringente questo è fatto apposta per isolare per l'umidità ecco qua una volta sistemato così possiamo metterci anche sopra del nastro isolante e questo è il nostro collegamento fatto andiamo a vedere per scrupolo se il collegamento funziona se abbiamo i 12 volts ecco qui 12 e 30 perfetto ragazzi quindi ripeto ancora una volta questo cavo è sempre alimentato non interrompe l'alimentazione una volta che abbiamo verificato che il collegamento è funzionante andiamo a isolare il cavo chiaramente perché se andiamo a toccare la carrozzeria facciamo un bel patatrac in questa maniera mettiamo un po' di nastro isolante alla fine del cavo in modo che così anche toccando la carrozzeria non succede nulla allora una volta nastrato il nostro cavo pronto l'alimentazione lo facciamo passare all'interno di queste guide così arriviamo direttamente qui dove andremo a installare il nostro subwoofer perché ho deciso di metterlo da quest'altra parte poiché il filo dell'alimentazione così non fa giri strani all'interno dell'auto passa direttamente qui ed esce dove andrà collegato al subwoofer e così poi i cavi audio del DASA deve farlo passare dall'altra parte in modo che così si incontrano tutti sotto il sedile vedete? questo è un attimo farlo passare qua dentro lo facciamo passare qua dentro e lo facciamo uscire qui dove andrà posizionato il subwoofer lavoro più pulito sicuramente allora per aprire le fascette in plastica per far passare il filo dentro è facilissimo basta sganciarle e si aprono facilmente ok così possiamo far passare il filo internamente qua ragazzi tiriamo tutto il sedile avanti verso lo sterzo e facciamo passare o un pilota o un pezzo di cavo grande per poter poi far passare il positivo in questa maniera una volta che abbiamo tirato avanti tutto il sedile qui sotto c'è questa fessura dove escono altri cavi quindi inseriamo un cavo da quella parte o un pilota quello che abbiamo a disposizione in modo che così esce dalla parte laterale ok eccolo qui esce da questa parte e così adesso colleghiamo il cavo rosso lo facciamo uscire sotto il sedile alla fine se optate per questa opzione quindi collegando il cavo qui dove vi ho fatto vedere servirà a parte pochissimo cavo di alimentazione un metro un metro massimo un metro e mezzo e poi qui sotto abbiamo la possibilità di collegare il cavo di massa vedete eccolo qua quindi abbiamo tutto a portata di mano poi colleghiamo con un po' di nastro il cavo così lo facciamo uscire dall'altra parte ok stigliamo il cavo da questa parte il cavo di alimentazione è passato quindi possiamo anche far passare quello per la massa ragazzi andiamo a mettere il morsetto con l'occhiello per collegare il cavo di massa una cosa del genere quello che avete e poi andiamo a collegare il buroncino che è qui sotto poi colleghiamo il cavo di massa a quello rosso che abbiamo fatto passare e andiamo a ritirare il filo ecco qua ragazzi quindi qui possiamo mettere una fascetta a modo per non far muovere il cavo che abbiamo fatto passare e questo è il cavo di massa che abbiamo collegato alla nostra massa dell'auto eccolo qui ok e qui siamo a posto adesso dobbiamo far passare i cavi dal nostro da saita fino ad arrivare sotto il sedile e che ci vuole allora eccoci all'interno del nostro cascai dobbiamo ora smontare nuovamente non so per quante volte già l'ho fatto quindi andiamo a rimuovere la nostra fascia laterale questa è la prima cosa che dobbiamo fare questa è sempre la più rognosa perché è agganciata proprio bene almeno la mia è agganciata in una maniera ingradebola ci vuole l'attrezzo giusto ragazzi ecco qua ah stavolta non la smonto tutta eh ormai sapete avete visto come si monta come si smonta al da saida poi andiamo a togliere questa qui perché c'ha l'incastro sotto lo faccio vedere ok e qui sotto ha l'incastro eccolo qua vedete questo qui e poi ok lo mettiamo qua sotto e poi adesso andiamo a estrarre il nostro la nostra bestiolina sempre da sotto ok e poi da sopra eccolo qua poi andiamo a mettere qualcosa qui se ho arrivato il cambio allora aspettiamo un attimo intanto tiriamo giù questa perché ci dà fastidio ok ok e poi mettiamo qualcosa qui per non rovinare lo schermo ecco qua il nostro da saida smontato per chi non lo sapesse ragazzi ve lo faccio vedere la micro sd è questa qui eh c'è questa fessura e all'interno c'è la micro sd che se riesco in questo progetto ripeto vorrei spostarla in una zona accessibile senza ogni volta smontare il da saida vediamo se se riusciamo anche a fare quello quindi adesso dobbiamo andare a individuare i cavi sia per l'accensione dell'amplificatore sia per il segnale da portare al subwoofer allora per collegare i cavi audio front l e front r out dobbiamo usare questo adattatore che viene fornito insieme al da saida per collegare eventuali amplificatori o quant'altro altrimenti se colleghiamo i cavi audio direttamente su questi già presenti non ce la fa l'amplificatore a partire quindi c'è un livello troppo basso non si sente per nulla quindi dovremo andare a utilizzare l'adattatore questo qui da collegare poi alle casse dell'auto un lavoraccio un bestiale ragazzi lasciamo perdere quindi i due cavi rosso e blu o rosso e bianco quello che avete vanno collegati su front r out e front l out ok e questo adattatore va collegato dietro il nostro da saida e va collegato questo qui tanto non ci possiamo sbagliare perché praticamente sono ecco qui a posto sono dedicati una volta collegato questo spinotto poi dobbiamo collegare il cavetto blu di accensione per far partire il nostro subwoofer e il cavetto in questione è questo qui c'è un cavetto blu con scritto amp amplificatore lo vedete? però dobbiamo utilizzare quello che esce dallo spinotto di alimentazione questo qui di alimentazione esce questo cavo blu con la scritta amp e dobbiamo collegare il il cavetto questo blu che poi va sul remoto del subwoofer per farlo partire in automatico quando accendiamo il tablet adesso risistemiamo tutti i fili allora ripeto nel questo progetto che sto elaborando rientra anche questa cosa praticamente un adattatore micro sd per spostare la sd che è inserita all'interno del da saida vedete questa qui la togliamo dalla fessura qui a destra c'è la fessurina per la sd la inseriamo dentro questo adattatore e poi la la forma della micro sd la andiamo inserire al posto della sd stessa ok la inseriamo fino a un certo punto poi sentiamo lo scattino e si blocca e in questo modo avremo la possibilità di poter utilizzare la nostra sd senza ogni volta smontare il tablet perché questa qui poi la faremo passare o all'interno del cassetto o dove meglio crediamo da una posizione dove è accessibilissima quindi una volta che abbiamo messo questa prolunga alla fine vediamo se funziona se riconosce la sd allora andiamo a vedere nel menu andiamo sul file manager e eccola qui la riconosce benissimo gps prende la schedina sd del tablet tutto il contenuto che dentro lo riconosce tranquillamente allora prima di far passare i fili rimontare il tutto chiaramente andiamo a vedere se è tutto funzionante ho messo qualche mp3 all'interno di questa pendrive senza copyright perché ogni volta mi bloccano il video la musica farà sicuramente cagare però vediamo solo se funziona allora file manager andiamo a cercare usb dove sta audio audio ci sarà qualcosa di pompante andiamo a vedere frequenza da 60 a 120 chiaramente a 60 spinge di più 60 hertz qui ci abbiamo il guadagno qui aumentiamo più pompa e questo è il livello del sub vediamo se c'è qualcosa di più un po' questa qua vabbè comunque anche troppo eh un po' questa qua vabbè comunque questo è poi è da regolare eh chiaramente ma 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 pompa pompa ragazzi pompa vabbè 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Possiamo abbassare il livello Pompa, pompa Grande ragazzi Non me l'aspettavo, grande Poi dobbiamo sistemare anche il controllo remoto Del subwoofer Questo andrà posizionato da qualche parte Dove abbiamo la possibilità di regolare il livello Dal minimo al massimo Dove abbiamo la possibilità di regolare il livello Ragazzi, pompa la grande ragazzi Non me l'aspettavo, grande Spettacolare! Dove abbiamo la possibilità di regolare il livello Oh ragazzi, è spettacolare Così vi faccio anche i massaggi quando guido Nel Berotano Vivo, vivo ragazzi Vivo, vivo Grande, 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 grande Grande, grande, grande Era proprio quello che mancava ragazzi Ora è perfetto il nostro da Sida Allora, detto ciò Che è tutto funzionante Provato è funzionante Non ci resta adesso che Sistemare i fili E far passare Chiaramente il cavo audio E il filo remoto Da una parte Per farlo arrivare sotto al sedile E questa qui E questa qui Poi vediamo dove Dove sistemarla Poi chiaramente Ragazzi vanno regolati tutti i livelli Qui Minimo, massimo Il guadagno Il bass boost Il low pass Quindi sono tutti da regolare La frequenza da 50 a 150 Una volta che abbiamo regolato tutto questo Questo per esempio Per La posizione Dello stesso Zero 180 gradi Quindi o lo mettiamo sotto al sedile O lo possiamo mettere anche così Bisogna spingere questo pulsantino Poi Per configurarlo Quindi noi mettiamo zero Perché andrà messo In orizzontale E questo è Auto power On Quindi va schiacciato In basso Perché noi lo facciamo Lo comandiamo Dal capetto Di Remoto E questi sono i due Due cavi audio Rosso e nero Adesso io ho toccato questo rosso Perché Non arrivava fino a qui In negativo Quindi solo per provarlo E funziona tutto E questo è Il remote control Quindi il cavo Che dobbiamo far arrivare Fino avanti Dove andrà collegato Il Il Lo faccio L'ho fatto vedere prima Questo qui Il controller Quindi funziona tutto Sono Molto soddisfatto E poi La cosa bella È che non vibra proprio Ragazzi Non si sente una vibrazione Certo La di camerina Stava per esplodere Quindi sicuramente Il video Soprattutto l'audio Non renderà Quello che Che poi Effettivamente Si sente in auto Quindi Questo è poco Ma sicuro Siamo arrivati Alla fine Della giornata Perché sono Morto Praticamente Quindi Il seguito Domani Con calma Domani mattina Caffettino E Dobbiamo sistemare Il tutto Far passare i cavi E sistemare E finire da sistemare Tutto quanto Per oggi Penso che possa bastare Così ragazzi Così 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 Grazie.